È giusto cominciare il nostro viaggio nel mondo della fotografia con un'ottica da 50 mm? C'è chi ama particolarmente questa lunghezza focale e chi invece non la apprezza particolarmente. Sulla scia di un video recente in cui parlavo proprio di quest'ottica evidenziando secondo me alcune criticità andiamo oggi a fare un video dove invece vi indico quelle che sono secondo me i punti di forza di questo obiettivo. Ciao a tutti amici bentornati sul mio canale, io sono Cesare e mi occupo di fotografia, abbiamo già parlato del 50 mm ma oggi andiamo a elencare quelli che sono invece i suoi punti di forza. Nel video precedente che vi lascio linkato in card avevamo parlato dei difetti. Ovviamente molti di voi sono stati d'accordo con me, qualcuno invece è stato del parere completamente opposto. Oggi vado a spiegarvi che secondo me questa non è un'ottica da scartare, semplicemente nel video precedente avevo parlato di quelle che sono le cose che a me non piacciono di quest'ottica. Oggi invece andiamo a elencare i suoi punti di forza. Prima di cominciare però vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto perché come vedete qui si cerca di essere bilanciati e morigerati e quindi parliamo delle cose per come sono, cercando di evitare pareri personali o comunque quando si dà un parere personale segnaliamo che di parere personale si tratta. Molto bene ma partiamo subito. Il motivo principale secondo me per cui il 50 mm è un'ottica da tenere in considerazione è che è un'ottica di qualità. È difficile trovare un 50 mm che faccia schifo in termini di qualità e di resa d'immagine e vi faccio notare che di solito il 50 mm viene in molteplici versioni per diverse fasce di prezzo. Quindi avremo il 50 mm serie top che costa una fracca assurda di soldi ma avremo anche un 50 mm intermedio che si colloca di solito tra i 500 e i 600 euro e poi avremo il 50 mm plasticone che di solito viene via intorno ai 120-150 euro. Quindi abbiamo delle fasce di prezzo molto diverse. Abbiamo un 50 mm da 3.000 euro. Stiamo sempre parlando di consumer perché se andiamo su cose particolari capace che abbiamo 50 mm che vengono via anche a 50.000 euro. Quindi stiamo sempre parlando di mercato consumer. Si va dai 3.000 euro ai 120 euro per le fasce più basse. Quindi è una lente che ci dà la possibilità di spaziare. Anche se non abbiamo tanto budget da investire possiamo prenderla allo stesso quest'ottica. È un po' volendo la stessa cosa che succede magari per il 24-105 f2.8 di Canon. Una lente di cui abbiamo già parlato sul canale. Una lente che è appena uscita. Che cosa succede? Abbiamo quella lente lì che è top e che costa un casino di soldi. Dopodiché abbiamo il 24-105 serie L f4. Costa un po' di meno. Un'ottica che ho anch'io. Un'ottica abbordabile. Costa 1.500 se ricordo bene. Dopodiché abbiamo il 24-105 STM che è un'ottica ancora più abbordabile che mi pare venga via intorno ai 500 euro. Abbiamo delle fasce diverse. Ovviamente cambiano delle cose. La lente top avrà delle caratteristiche premianti. Ovviamente se no non costerebbe di più e quindi sarà migliore per costruzione, sarà migliore per resa, avrà un'apertura maggiore. In certi casi magari avrà la stabilizzazione che le versioni base non hanno. È evidente però che se vogliamo entrare in quel mondo e ci serve quella lunghezza focale con una cifra relativamente bassa possiamo già fare quello step. Poi se le cose per noi andranno bene potremo comprare un'ottica di fascia superiore. Altrimenti possiamo prendere quella intermedia che di solito va bene. Quella intermedia solitamente va bene per lavorare e non è obbligatorio prendere la versione stracostosa. Questa è un'ottima cosa. Un altro motivo che rende accattivante quest'ottica è l'apertura ovviamente. Nel momento in cui noi andiamo a lavorare con un'ottica prime e vi faccio presente che io per esempio in questo momento sto registrando i miei video con un'ottica prime che è un 35 mm f1.8 di cui ho già fatto l'unboxing che vi lascio linkato qui da qualche parte. Tenete conto che quest'ottica è montata su un sensore APS-C per cui in questo momento voi state vedendo un non mi ricordo più dove avevo fatto i conti cos'è un 54 mm equivalente come angolo di campo. La profondità di campo sarà lievissimamente diversa ma è questione di millimetri. Comunque state vedendo un equivalente di un 50 mm grosso modo come composizione e il sommo vantaggio di una lente come questa è che riesce a sfocare lo sfondo abbastanza bene anche in spazi non proprio giganti. Questo è un grosso vantaggio ed è il motivo per cui molti puntano ottiche di questo tipo me compreso. Io ho acquistato un'ottica di questo tipo proprio perché volevo sfocare lo sfondo in modo da avere la separazione necessaria per permettere all'utente di concentrarsi su di me invece che sulla lampadina alle mie spalle insomma. Questa grande apertura comporta innumerevoli vantaggi. Innanzitutto possiamo aumentare i tempi di scatto senza perdere in qualità possiamo diminuire gli ISO perché stiamo lavorando magari in un ambiente non luminosissimo ma con un'ottica con una grande apertura riusciamo a fare ottime foto anche in un ambiente dove non c'è tanta luce. Quindi magari sto pensando a tutti quei contesti dove non si può usare il flash e dove non c'è tanta luce come i matrimoni, la chiesa, i battesimi, i concerti. Ovviamente bisogna vedere se la lunghezza focale ci consente di lavorare e con un 50 mm ai concerti si fa un po' fatica. Io di solito opto per uno zoom in quei casi però comunque per quanto riguarda l'apertura ci consente di lavorare molto bene quindi questo è un vantaggio. Può anche ritorcersi contro in certi casi per esempio nel mio caso specifico io devo tenere delle impostazioni ben precise per girare i miei video e in questo caso f1.8 di apertura è troppo, fa entrare troppa luce quindi ho dovuto mettere un filtro ND, vi lascio linkato in card il video in cui parlo di questo procedimento perché è una cosa molto comune, si fa soprattutto nel videomaking, ho dovuto montare un filtro per tagliare parte della luce in entrata nel mio obiettivo perché è troppo luminoso. È una stupidata, i filtri hanno dei costi irrisori a meno che non si prendano dei filtri super mega top, comunque diciamo che nell'ordine dei 70 euro massimo di solito si trova il filtro adatto alla nostra esigenza, si monta il filtro e così si possono usare i parametri che si vogliono anche se nell'ambiente la luce è troppa e nello specifico faccio riferimento alla luce ambiente quindi magari questa lampadina ornamentale che non è regolabile aveva una luminosità troppo intensa quindi ho dovuto abbassarla e conseguentemente ho alzato invece la mia luce principale per avere il bilanciamento corretto. Sono cose che si fanno e tutto questo lo faccio per mantenere la massima apertura sulla mia lente in modo da avere lo sfondo piacevolmente sfocato. Un altro indubbio vantaggio del 50 mm a volte è che occupa poco spazio, perché dico a volte? Perché nel caso della lente entry level quella che costa poco è piccolo, nel caso della lente intermedia rimane piccolo, rimane una lente, sono dei lentini tutto sommato non dico tascabili ma quasi, nel caso della lente top vi parlo di Canon ma ho visto che anche Sigma e probabilmente anche Nikon e Sony non sono da meno, nel caso delle lenti top diventano dei bei bazooka anche i 50 mm. Quindi sì, vantaggio però dipende perché le lenti poco costose sono piccole, le lenti top cominciano a diventare più grosse perché hanno un'apertura maggiore, devono far entrare più luce, un barilotto più grande, magari la stabilizzazione, insomma tutte cose che aumentano il volume. Per cui piccole e leggere a volte, a volte sono piccole e leggere. Parliamo anche della costruzione, non tanto della qualità costruttiva, abbiamo già stabilito che se esistono fasce di prezzo ovviamente la qualità costruttiva andrà ad aumentare di pari passo con il prezzo. Però un'ottica prime, quindi una lente che non permette di zoomare, avrà meno elementi al suo interno. Avendo meno elementi ci sarà meno dispersione, ci saranno meno fenomeni indesiderati e quindi di solito è una lente più nitida, è una lente più precisa, è una lente che avrà una resa di solito migliore rispetto a uno zoom. Attenzione, se noi prendiamo il 50 mm base, quello da 120 euro e lo paragoniamo con un'ottica zoom da 3.000 euro, lì voglio vedere perché a quel punto l'ottica da 3.000 euro secondo me performerà meglio del 50 mm base. Però in generale come regola di base e soprattutto a parità di fascia di prezzo, un'ottica prime rende probabilmente meglio in termini di nitidezza e di precisione rispetto a un'ottica zoom che ha più elementi, più gruppi. Quindi questo bisogna poi andare a vedere caso per caso perché non è detto, però di norma come regola base un'ottica prime dovrebbe essere più nitida. Dovrebbe anche avere meno distorsione, dovrebbe avere meno aberrazione cromatica, ma anche lì dipende dalle fasce di prezzo perché comunque l'ottica top non avrà difetti, mentre l'ottica base sarà piena di difetti, anche perché così il produttore ti invoglia a comprare lo step successivo. Veniamo all'aspetto pratico, il motivo per cui secondo me il 50 mm è un'ottica da tenere in considerazione e badate bene non mi rimangio niente di quanto detto nel video precedente, quindi secondo me il 50 mm è un'ottica che raramente va bene per quello che dobbiamo fare, raramente. In questo contesto che state vedendo a me va bene, quest'angolo di campo è un caso, mi è andato bene per caso, cioè l'ho scelto apposta, però visto lo spazio che avevo a disposizione e la ripresa che dovevo fare mi è andato bene per caso. Quando sono in giro a fare le mie foto a me capita molto raramente di usare il 50 mm, mentre mi capita spessissimo di usare l'85, mi capita spessissimo di usare il 16, quindi diciamo che io sto un po' sugli estremi o da una parte o dall'altra, stare in mezzo faccio fatica. Il sommo pregio del 50 mm sono due e vertono tutte e due sullo stesso topic, ovvero quando io comincio con un 50 mm o comunque sto usando un 50 mm, 50 mm mi aiuta a capire delle cose. Per esempio sto usando il 50 mm che è la lente che viene considerata, veniva proprio considerata la normale, è l'ottica normale il 50 mm. Quando io uso il 50 mm che è a metà mi rendo immediatamente conto se mi serve più teleobiettivo o se mi serve più grand'angolo. Se sto facendo una foto di interni o un paesaggio mi serve avere una visuale ampia. Sto usando il 50 mm, lo vedo che sto prendendo una porzione ristretta, mi rendo conto che vorrei più angolo di campo. Quindi il 50 mm mi aiuta a capire, mi aiuta a capire che cosa prendere dopo. Io la considero sì una lente di passaggio. Mi aiuta a capire se per quello che ho in mente, per quello che voglio fare, mi serve più o meno angolo di campo. Se sto cercando di fotografare dei petti rossi, eh cavolo, col 50 mm mi devo avvicinare, 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 quelli scappano via. E quindi capisco e dico ok, non posso andare lì vicino, mi serve una lente più lunga. Ti aiuta a capire che cosa comprare dopo. Posto che ovviamente se invece col 50 mm tiri fuori esattamente quello che vuoi, non devi comprare niente, eh. Cioè questo è solamente nel caso in cui ti manchi qualcosa mentre stai usando il 50 mm. Se non ti manca niente vuol dire che sei arrivato e col 50 mm stai facendo quello che vuoi. L'altro sommo pregio, più o meno siamo sempre sulla stessa falsariga, è che ti obbliga a pensare, ti obbliga a muoverti per comporre la scena. Mentre con lo zoom, con lo zoom secondo me è facilissimo comporre, perché prendete per esempio un 70-200. Il 70-200 fa venire tutto bello, viene tutto bello preciso, tutto senza distorsione, tutto con lo sfoccato bellissimo. È facile fare delle belle foto col 70-200, anche perché faccio un'inquadratura, c'è un elemento di disturbo, frac, zoomata, l'elemento di disturbo è eliminato, io non mi sono mosso di un millimetro e la foto viene meglio di prima. È facile da usare uno zoom. Mentre un 50 mm è difficile da usare, perché ti dà una soluzione di inquadratura che a mio parere è sempre un po' pericolosa. Ci sono sempre elementi che magari non vuoi prendere, è difficile escludere le cose, è difficile concentrarsi su qualcosa, mentre con lo zoom si fa tranquillamente. Con un grand angolo invece abbracci tutta la scena, quindi se c'è l'elemento di disturbo dici vabbè sto prendendo tutta la scena. Diciamo che il 50 mm secondo me è il più difficile da usare, perché è proprio quella via di mezzo che ti mette sempre in difficoltà. Per questo motivo lo metto nei pro, nei motivi a favore, perché nel momento in cui sei in difficoltà con il 50 mm, se trovi una soluzione con il 50 mm poi sei in grado di usare qualsiasi ottica, perché se hai trovato una soluzione con l'ottica più difficile, puoi trovare una soluzione con altri tipi di ottiche che sono più semplici da usare, è un gioco da ragazzi. Quindi questo è un ulteriore pregio del 50 mm. Bene amici, io non voglio dilungarmi oltre, per cui con questo video ci fermiamo qui. Fatemi sapere se ho dimenticato qualcosa, se ci sono dei pregi ulteriori che a voi sono venuti in mente. Per quanto mi riguarda i punti di forza principali del 50 mm sono questi. Come detto è un'ottica che io non amo particolarmente, la uso tanto, perché comunque uso quest'angolo di campo per fare tutti i miei video praticamente, quindi non è che lo usi poco. Però quando faccio foto mi capita raramente di dire ah che bello adesso usiamo il 50 mm. Di solito uso il 70, uso l'85, uso il 24, il 35. È raro che usi il 50, per cui fatemi sapere se qualcuno di voi che lo usa di più ha riscontrato dei pregi ulteriori. Vi ricordo anche di iscrivervi al mio canale perché così ne parleremo poi magari nei commenti o negli shorts brevi che pubblico frequentemente, quindi non rischiate di perdere questi contenuti che fanno un po' da contraltare i contenuti lunghi che vengono pubblicati regolarmente. Io come sempre vi ringrazio di aver passato un po' del vostro tempo con me e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!